417 incrociato, fessure e aperture seducenti sono sicuramente i tratti distintivi quasi tutti i vestiti neri visti in questa stagione su questo tappeto rosso.Qui confrontiamo gli abiti di Ariadna Gutierrez, una bellezza colombiana che sfoggia un abito asimmetrico con strass e quelli milla cucla lapidus, sia lineari che con l'addome in piena vista.Punto per primo, il segno è 6, per gli altri due segno è 6,5 star senza tacchi a Cannes, da Julia Roberts a Jennifer Lawrence.Foto